Vendevano droga a prezzi stracciati per allargare così sempre più il giro dei clienti, ma sono stati beccati in flagrante ed arrestati dai carabinieri. In manette sono finiti due giovani magrebini, un 19enne ed un 27enne, entrambi incensurati, trovati con mezzo chilo di hashish, un quantitativo che avrebbe permesso loro di confezionare oltre 2.800 dosi da smerciare poi tra le vie del centro storico di Sansepolcro. Uno dei due pusher, il più giovane, è stato infatti sorpreso dai militari mentre cedeva 5 grammi di sostanza stupefacente ad un cliente, incassando 50 euro. È stato così fermato ed arrestato subito dopo. I carabinieri sono riusciti a risalire anche all'altro spacciatore, secondo gli inquirenti, al vertice dell'organizzazione, quale è stata eseguita anche una perquisizione domiciliare. Tra le mura domestiche l'uomo nascondeva mezzo chilo di hashish destinato alla vendita al dettaglio, ben nascosto in una cantina dove teneva il proprio cane. Sempre lì i militari hanno trovato bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, oltre a 1.500 euro suddivisi in banconote di vario taglio. La sostanza stupefacente avrebbe fruttato al pusher diverse migliaia di euro con l'immissione sul mercato delle centinaia di dosi, sequestrate anche diverse carte di credito. Il 27enne ha infatti numerosi conti correnti che sono attualmente al vaglio degli inquirenti. I due giovani sono stati arrestati e al termine dell'udienza di convalida sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e della permanenza domiciliare notturna. Il 19enne però è stato colto nelle ore successive in flagranza della violazione dell'obbligo di dimora nel comune di Sansepolcro. Per lui sono così scattate nuovamente le manette, adesso si trova nel carcere Aretino di San Benedetto.